ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video quest'oggi sarà un brevissimo video per mostrarvi quello che ho acquistato durante i saldi del black friday sul sito upside nail system dunque sarà un brevissimo video vi mostro appunto le cose che ho comprato e poi voi magari mi direte nei commenti cosa volete vedere nello specifico ho preso questo titanium che sarebbe un sock off di una consistenza meravigliosa di un colore naturalissimo io l'ho acquistato per per farci dei refill molto veloci e se volete fatto un video su come lo utilizzo me lo dite qui sotto nei commenti e cercherò di accontentarvi e non fateci caso alle mie unghie perché sono veramente bruttissime e le devo rifare ho preso anche magic love che quando ieri abbiamo fatto la diretta non so se vi è piaciuta la sorpresa era questo a cui stavo lavorando e ho acquistato appena l'ho visto appena teresa lo ha aperto io sono rimasta senza parole perché guardate che meraviglia di rosso è è un rosso con dei micro glitterini ed è fantastico soprattutto per adesso che sta arrivando il periodo natalizio sono sicura che le clienti ne andranno matte effettivamente un veramente un mare di colori ma un colore in questo modo effettivamente mi mancava guardate la sua consistenza bellissima bella corposa è molto coprente 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 a primo passaggio per per essere più più precisa e lo trovo un colore fantastico cioè meraviglioso dovete sicuramente acquistarlo e ho preso anche uno v painting è il primo che che acquisto in generale non ne avevo mai avuto uno ho visto l'altro giorno che l'ho usato in una diretta teresa e ho visto che era veramente una consistenza bellissima per cui ho deciso di acquistare anche questo l'ho preso di colore nero però il mio obiettivo diciamo è prenderli prenderli tutti poco alla volta guardate che meraviglia ultra pigmentato ovviamente densissimo quindi nel momento in cui andrete a decorare e potete stare lì a decorare per tanto tempo e questo colore non si allarga e non si e non va a scivolare rovinando pila nail art per poi ricominciare da capo quindi è un colore che veramente consiglio tantissimo come potete vedere dal video è molto 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 denso quindi veramente si lavora si fanno disegni a regola d'arte passiamo adesso al materiale che più mi piace lavorare non che l'agrigel io ho visto anche dei video su questa agrigel e mi è piaciuto tantissimo perché è proprio un color naturale scusate ce l'ho ancora chiuso e quindi non l'ho ancora aperto però ho visto dei video che è meraviglioso se volete appunto un video in cui lo uso me lo dite sotto nei commenti che vi accontento ho perso anche la soluzione agrigel che con cui andrò a lavorare appunto il mio agrigel e della consistenza bellissima io l'ho usato ieri comunque non il mio l'altro però posso garantirvi che è fantastico oddio qui siamo arrivati al pennello che non so se si nota ma c'ha dei micro 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 glitterini che da un effetto veramente bellissimo per lato e dall'altro lato troviamo invece dei cristalli cioè appena l'ho visto è stato amore a prima vista praticamente guardate che meraviglia il colore è tutto e adesso vi apro le setole cioè sono di una morbidezza veramente spettacolare non appena lo provo vi faccio anche un video se lo volete vi mostro come si stende il colore ma già si vede che comunque sono setole veramente molto molto belle cioè è il pennello in generale che è fantastico poi cioè lavorare con una cosa del genere qualcosa di meraviglioso a parer mio ditemi nei commenti se vi piace niente ragazze io ho acquistato queste queste cosine approfittando del dello sconto anzi del grande sconto nel 40 per cento quindi se non lo aveste ancora fatto vi consiglio veramente di approfittarne perché è un grosso grosso sconto avete avrete tempo fino a questa notte a mezzanotte dopo di che il coupon non sarà più disponibile perché appunto l'offerta scade l'abbiamo messa disponibile verso le 24 ore anche perché comunque è uno sconto ben consistente qui sotto giù nelle infobox vi lascerò il sito dove potrete andare ad acquistare e il codice che dovrete andare ad applicare per ricevere lo sconto del 40 per cento io spero che questo breve video vi sia piaciuto e se volete vedere qualcosa nello specifico non esitate a scrivermelo nei commenti vi mando un grosso bacio e al prossimo video ciao